Nel dibattito sull'11 settembre ci sono alcune dati importanti che bisogna tenere presenti oggi più che mai. La prima ovviamente è l'11 settembre. Fin da subito molti ricercatori si sono chiesti come facesse l'FBI ad avere subito i nomi dei 19 rotatori, quando sulla lista di passeggeri non c'era un solo nome arabo, oppure come abbia fatto a scomparire per intero un aereo dentro un buco di pochi metri senza lasciare grossi rottami visibili all'esterno, oppure come abbiano fatto due aerei a far crollare addirittura tre grattacieli nell'arco di poche ore. E così per i primi anni questo dibattito è andato avanti a fasi alterne. C'erano i mazzucco che sostenevano ad esempio che le eiezioni che si vedono ai lati delle torri che crollano fossero dovuti agli esplosivi e c'erano gli attivissimo che dicevano che no, quelle non sono esplosioni, sono i vetri delle finestre che si frantumano per la pressione dell'aria. E così si andava avanti un'opinione da una parte, un'opinione dall'altra. Ma ovviamente non se ne usciva. Poi nel 2005 il NIST, l'istituto scientifico incaricato dal governo americano di dare la versione ufficiale dei crolli, ha pubblicato il suo rapporto sulle torri gemelle e nel 2008 ha pubblicato quello sul crollo dell'edificio 7, la terza torre. A quel punto sono entrati in scena gli Architects and Engineers for 9-11 Truth, cioè un'associazione di oltre 3.000 architetti e ingegneri da ogni parte del mondo, guidata da Richard Gage, che ha completamente trasformato i termini del dibattito. Non più opinioni di parte, ma dati scientifici verificabili da chiunque. E che cosa hanno fatto gli architetti e ingegneri di Richard Gage? Hanno preso i due rapporti del NIST, quello sulle torri gemelle e quello sull'edificio 7 e li hanno letteralmente demoliti. Buonasera a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni, è sempre mercoledì 11 settembre, sulle 18.14, scusate ritardo, ma questa sera c'è il grandissimo ritorno di Massimo Mazzucco. Ciao Massimo, grazie di essere qui, come stai intanto? Ciao a tutti, ciao Riccardo. Diciamo che si tira avanti perché non posso certo dire di star bene in questo periodo, ma relativamente sì, si va avanti. Siamo tutti con te Massimo, so che non è un periodo facile. No, infatti non è inutile che faccia finta di dire, cioè è inutile, ah c'è tutto bene, cioè se uno lo chiede di solito è per sapere, quindi vi rispondo di solito. Comunque, andiamo avanti. Allora, perché siamo qui stasera? Per parlare dei 23 anni che sono passati da quell'11 settembre 2001. L'11 settembre Massimo è stato uno spartiacque per molti, per altri è stato il Covid, la pandemia, la vaccinazione, per me è stato l'11 settembre 2001, perché da quel momento in poi ho aperto una porta, grazie ai tuoi documentari, a quelli di Giulietto Chiesa, o di Fracassi, o di altri, e non sono più tornato indietro, in quanto ti rendi conto che quello che ci mostrano a livello televisivo, spesso e volentieri, è molto lontano dalla realtà. Hai fatto questo bellissimo video di 12 minuti, che parli dell'11 settembre e anche di Geoflop o Geopop, vorrei un tuo commento iniziale su come si stanno muovendo i mass media. Abbiamo visto Dick Cheney, che ha fatto un endorsement a Kamala Harris, ovviamente l'argomento 11 settembre è stato totalmente allontanato dalle televisioni che contano, però noi continuiamo a marcare e a ribadire, provandoci, la verità. Questo è il video che hai fatto vedere prima, l'inizio del video che hai mostrato prima, che ho pubblicato stamattina, e nasce proprio da questa, mi è venuto un fastidio, perché mi sono accorto che dopo tutto il lavoro fatto, dopo che abbiamo portato tutte le prove che abbiamo portato e soprattutto dopo che abbiamo zittito, quando dico abbiamo al plurale dico noi in generale, nel movimento per la verità dell'11 settembre, nel mondo, soprattutto americano, ma non solo, francesi, inglesi, tedeschi, italiani, fracassi, come hai citato tu, Giulietto Chiesa e altri, una volta che abbiamo zittito i difensori della versione ufficiale, nel senso che non avevano più argomenti loro di fronte alle confutazioni scientifiche della tesi della versione ufficiale, uno dice, vabbè, l'argomento è chiuso, invece adesso, passati dieci anni, arriva tutta questa nuova banda di frescaccioni, che così si fanno finta di niente, tutti i belli fighetti, uno con la barbetta, l'altro con la chitarra elettrica dietro, eccetera, che fanno finta di scoprire dall'inizio, allora vediamo un po', com'è crollata l'edificio 7, o com'è crollata l'edificio 7. Dunque il NIST, cioè l'organo ufficiale, ha stabilito che te la riraccontano da capo, senza dire al pubblico, che ovviamente non lo sa, e loro si approfittano dell'ignoranza del pubblico, senza dire che tutto quello che loro stanno raccontando è già stato non solo smontato da noi, ma smentito da loro stessi, cioè le stesse entità che loro citano come voce della verità, questo NIST famoso, che poveracci sono, è un istituto scientifico americano che ha avuto la patata bollente e gli hanno detto ragazzi abbiamo bisogno della versione ufficiale dei crolli degli elettori gemelle, datevi da fare, calcolo che ci hanno messo tre anni a fare il rapporto sul crollo degli elettori gemelle e altri tre per fare quello sull'edificio 7, quindi sai che fatica a mettere insieme questi rapporti, perché ovviamente come fai quando gli edifici vedi che vengono giù in demolizione controllata, come fai a raccontare che sono caduti per causa degli incendi, dell'ammorbidimento dell'acciaio, tutte queste palle qui che ci hanno, quindi ci hanno messo il loro tempo, però una volta che quella parete lì è crollata, parete di bugia, uno dice vabbè basta, invece adesso ricominciano da capo, ci approfittano un po' del fatto che molta gente ovviamente non era attenta o attiva 20 anni fa quando c'è stato il dibattito, molti altri sono giovani, magari diversamente intelligenti, quindi più facili da influenzare e questi ricominciano da capo, quindi se avete tempo un attimo, non dico tanto guardate il mio video, ma se lo guardate poi andate a disiscrivervi da Geopop e fate qualche cosa per lamentarvi, perché questa gente qui fra l'altro, siccome sanno benissimo che raccontano delle bugie, diventano tutti dei complici, dei complici degli attentati, cioè nel momento in cui io ti spiego che quella è una demolizione controllata, te lo dimostro scientificamente con i dati degli architects in engineer, quindi non è più una mia opinione, ti faccio vedere coi calcoli alla mano che quella non può essere che una demolizione controllata, tu lo sai, non puoi non saperlo, o mi confuti oppure accetti quello che io ti ho detto, quando lo sai non puoi andare a riraccontare che le torri sono cadute da sole, diventi anche tu complice di quelli che le hanno fatte cadere, quindi c'è anche di mezzo un aspetto morale non da poco secondo me. Chi ha voluto secondo te Massimo l'attentato e quali sono stati i risultati principali che volevano raggiungere? Chi ha voluto come nome e cognome, diciamo che c'è un gruppo di potere che si può identificare molto geneticamente con i neocons, i neoconservatori, della fine del secolo scorso, quindi soprattutto i Dick Cheney e i Rumsfeld erano quelli più in vista, che avevano bisogno di una scusa per andare in Afghanistan a riprendere il controllo dell'Afghanistan, non per andare a punire Bin Laden ovviamente, ma perché gli serviva andare in Afghanistan e poi in Iraq per motivi che riguardano l'energia, cioè il petrolio, i gasdotti in Afghanistan e il petrolio in Iraq e anche per la guerra dell'oppio, perché i talebani nell'estate del 2001, quindi due settimane prima del 12 settembre, avevano completamente congelato la produzione di oppio per fare rispetto alla CIA ovviamente, perché chi ha studiato un pochino queste cose sa che la produzione di oppio e quindi l'eroina serve soprattutto alla CIA e non soltanto alla CIA, ma molti servizi segreti occidentali per finanziare tutte le operazioni in nero che non possono essere finanziate apertamente in Parlamento. Siccome di operazioni in sporche la CIA ne fa molte, ha bisogno di molti soldi in sporchi, ma tanti, non 50 euro di qui e 30 di là e quindi hanno bisogno anche del mercato dell'oppio per potersi rifornire di denaro contante. Quindi quel gruppo lì aveva un bisogno estremo di andare in Afghanistan, ma l'11 settembre in particolare, specialmente le torri gemelle, è una classica situazione nella quale si verifica un incastro di livelli diversi di interesse. Cioè puoi avere al livello più alto, hai magari il gruppo dei neocons che hanno bisogno di fare la guerra in Afghanistan, quindi dobbiamo dare la colpa a Bin Laden per poter avere la scusa di andare in Afghanistan. Ma se scendi di livello, scopri che ci sono anche dei livelli molto più bassi, di esigenze che andavano risolte abbastanza in fretta. Le torri gemelle, per esempio, costruite negli anni 70, a cavallo tra il 60 e il 70, rappresentavano un problema enorme per i proprietari, che era la Port Authority del New Jersey, c'è una società pubblica, perché erano diventati, con la crescita del costo dell'energia, costosissime. Siccome erano tutti spazi aperti da non so quanti metri quadrati, ogni piano era uno spazio aperto praticamente, figurateli tu. Cosa vuol dire riscaldare tutta quella roba lì che c'era solamente i vetri esterni d'inverno e cosa vuol dire raffreddarla d'estate? Cioè erano dei costi di manutenzione e di gestione proprio altissimi. Erano piene zeppe di amianto, perché erano state costruite quando ancora l'amiantro non era stato fuori legge. Quindi ogni volta che tu rompevi un rubinetto al settantesimo piano, non è che chiamavi l'idraulico, veniva lì alle 5, alle 5 e un quarto, cambiava il rubinetto e andava via. Bisognava evacuare un intero piano. Isolarlo tutto con la plastica come si fa con l'amianto, mettere la pressione negativa, aspirare praticamente dall'interno, pressione negativa in modo che le particelle di amianto non possano uscire verso l'esterno. Per ogni rubinetto o pezzo di tubo che devi cambiare, dovevi vuotare un piano intero magari per due giorni o tre giorni per fare questo lavoro con l'amianto. Rappresentavano un problema a livello stradale. Le torri gemelle avevano un quadrilatero prima, che praticamente era un intoppo, l'ho scoperto dopo, quando il traffico aumentato, che rappresentava un intoppo mostruoso per tutta downtown Manhattan, cioè la punta sud di Manhattan. I taxisti ti dicevano che ci voleva un'ora per andare da una parte della plaza delle torri gemelle a quell'altra. Infatti non pigliavano la corsa, dicevano guardi vada a piedi perché ci arriva prima. Quindi c'erano livelli diversi di problemi. Tutte queste problematiche a un certo punto arriva qualcuno e lì bisogna sapere chi è il genio. E questo non si può sapere, o se si sa non si dice, perché non ci sono le prove, che diceva ragazzi, qui c'è una bella briscola da fare. Le tiriamo giù con un finto attentato. A livello base risolviamo i problemi della circolazione e infatti le hanno ricostruite curiosamente con due strade che adesso attraversano il quadrilatero, non è più bloccato. Le ricostruiamo, prendiamo i soldi dell'assicurazione e ci guadagniamo magari anche qualcosina. Le rifacciamo nuove e molto più, poi le hanno rifatta una sola, la World One, la chiamano World Tower One adesso, molto più moderna, molto più efficiente che non ha tutti i costi dell'altra volta. Ci togliamo di mezzo tutto l'amianto, perché il problema dell'amianto non era soltanto il rubinetto da cambiare, ma non potevi demolire le torri gemelle, perché tu non puoi demolire un edificio con la demolizione controllata che abbia dentro dell'amianto, perché l'amianto va tutto in giro. E allora guarda un po' che culo, arrivano i terroristici, pensano loro con gli aerei, a buttare giù le torri gemelle. Quindi a quel punto tutto l'amianto sono respirati i cittadini di downtown Manhattan e soprattutto i soccorritori che ancora oggi stanno morendo, ne sono morti già credo più di 20 mila. Quindi quando ti fanno il conto delle vittime delle torri gemelle, ti dicono 3.000, 3.000 sono quelli morti nei crolli. Siamo arrivati già a 18 o 20.000 di morti di mesotelioma tra tutte le persone che sono andate, arrivate da ogni parte d'America, perché sono venute a portare soccorso a ground zero. Quindi quelle andrebbero messe nel conto. Quindi come vedi, è una soluzione a mille livelli. E poi come il Covid. Il Covid non è che è una cosa sola, non è un'operazione, per esempio, per far guadagnare i soldi di vaccino alle farmaceutiche. C'è ai vari livelli. A livello più basso c'è la Pfizer che poverini hanno incassato 90 miliardi in tre anni, hanno fatturato 90 miliardi in tre anni. Ma se vai più su c'è anche chi controlla il potere, chi ha bisogno di controllare le popolazioni, chi ha bisogno di imporre certe leggi per poi arrivare, mettere un green pass universale, eccetera, eccetera. Tutte le storie che sappiamo. Però voglio dire, sono vari livelli. Quando tutti questi livelli, come dire, si allineano come i pianeti, ecco che di colpo è l'evento catastrofico e catalizzatore che mette tutti d'accordo. Allora di colpo parte la ristrutturazione delle Twin Towers, la ricostruzione, guadagni i soldi per rifare quelle nuove, ti sei tolto di mezzo l'amianto, intanto Dick Cheney può andare a fare la guerra in Afghanistan, riprendere il controllo dei gasdotti che stava perdendo, riprendere il controllo dell'OPE, eccetera, eccetera. È una torre di babele dove sono tutti d'accordo e a un certo momento fanno tutti quella cosa lì. Due aerei ci sono schiantati sulle torri, uno sul Pentagono e l'altro a Shanksville dove non sono rimasti detriti o residui. Ufficialmente. Ufficialmente. Secondo te, chi guidava queste aerei? Allora, posso dirti chi non le guidava, perché anche lì la verità è molto difficile, però le bugie si possono smascherare più facilmente. certamente non le guidavano i piloti delle aeroline, perché lo hanno detto anche altri piloti intervistati, dice, mai uno di noi anche con la pistola alla Tempia porterebbe l'aereo a scantarsi intenzionalmente contro le torri gemelle. Cioè, una volta che io so che per me è finita e c'è il terrorista che mi dice no, vai a fanculo, mi butto in mare piuttosto, crepo comunque, crepi anche tu, ma almeno salvo la gente che c'è dentro le torri gemelle. Quindi mai i piloti intenzionalmente o sotto minaccia avrebbero potuto guidarle contro. Mai i cosiddetti dirottatori avrebbero potuto guidare, non dico colpire le torri gemelle, ma guidare quegli aerei nel modo in cui i controllori di volo li hanno osservati in cielo, perché hanno fatto delle manovre pazzesche in tutti e quattro i casi. Quindi noi sappiamo, siccome i quattro presunti dirottatori erano gente che non aveva mai volato un minuto su un jet della sua vita, avevano soltanto fatto qualche scuola di volo con i piccoli monomotori. Sarebbe come se tu non hai la patente, fai due giri con la 500 di papà in giardino, poi vai a Fiorano, prendi la Ferrari e batti il record del mondo, batti il record della pista. Siamo lì come livello. Questo è quello che avrebbero fatto. Quindi sappiamo anche che i dirottatori non sono stati loro a guidare gli aerei. Quindi cosa ti rimane? A me resta solo una ipotesi, un aereo telecomandato. Un aereo telecomandato che ovviamente non è l'aereo che è partito dall'aeroporto perché quello c'aveva i piloti. I piloti, gli aereo iniziali sono partiti dagli aeroporti, sono stati sostituiti in volo con un'operazione che si chiama shadowing, cioè praticamente l'aereo passeggeri viene raggiunto in volo da un aereo che lo copre e il radar vede un puntino solo dopodiché l'aereo passeggeri a terra scende velocemente sotto quota radar e va a atterrare nella base militare e dopo apriamo la parentesi di cosa gli succede. Mentre il drone c'è il telecomandato pieno tempo di esplosivi rinforzato di struttura con i motori rinforzati viene guidato a 900 km all'ora contro le torri gemelle contro un punto preciso teleguidato e richiamato. c'è un sistema che si chiama ILS che usano anche negli aeroporti quando c'è la nebbia un beacon c'è un faro che chiama l'aereo e lo fa venire esattamente nel punto in cui tu vuoi. E infatti se vai a vedere all'indietro la storia nei piani dove sono state colpite le torri gemelle c'erano stati degli strani lavori per cui avevano chiuso completamente al pubblico quel piano particolare sia nell'una che nell'altro caso e per tipo quattro giorni nessuno aveva potuto entrare e gli stessi guardiani degli ascensori non sapevano cosa succedesse in quel piano lì cosa stessero facendo guarda caso sono proprio i piani che poi sono stati colpiti dagli aerei che sono arrivati quindi la tesi più diciamo più diffusa più credibile del mondo dell'11 settembre è che quelli fossero aerei telecomandati non che non ci fossero aerei cioè i no planes la teoria dei no planes per me non è mai stata in piedi l'ho spiegato e dimostrato 30 volte c'è chi vuole continuare a crederci fa benissimo a fare i suoi io non l'ho mai sostenuta e non fate confusione quando io dico che gli aerei che hanno colpito le torri non sono quelli che sono partiti dagli aeroporti non sto dicendo che sono degli ologrammi oppure che sono messi a CGI no sono altri aerei fisici che hanno sostituito quelli partiti perché erano destinati ad andare a colpire le torri gemelle domanda cosa succede tutti lo chiedono allora che fine hanno fatto i passeggeri i passeggeri stai per chiedere anche tu giustamente immagino i passeggeri ovviamente non sono tornati a casa ora l'ipotesi che questi vengono fatti atterrare tutti in una base militare sono tre non quattro sono tre gli aerei inizialmente dirottati il quarto arriva dopo ricordiamoci che c'è uno spazio di mezz'ora quindi i primi tre due delle torri gemelle e quello del pentagono viaggiano praticamente nello stesso orario 8.46 9.03 9.37 diciamo nell'arco di 45 minuti vanno tutti a bersaglio l'altro invece arriva poi alle 10 di alle 10.05 viene abbattuto o cade o viene colpito in aria non si sa il quarto quindi i primi tre nell'arco di una se tu li fai atterrare tutti in una base militare poi ti restano ti restano i passeggeri siccome noi sappiamo anche che le telefonate dei passeggeri sono state fatte ai loro parenti ai mariti alle mogli cioè le telefonate quando uno dice ci hanno dirottato ci hanno i bandana rossi sono quattro arabi cattivi sono state fatte nel senso che i vari parenti le hanno ricevute e le hanno tutti testimoniato di averle ricevute e ho anche detto all'FBI allora tal dei tali mi ha chiamato mio marito dal cellulare dicendomi guarda ci hanno dirottato oddio non so che fine faremo ti amo tanto salutami i bambini eccetera eccetera ecco roba del genere noi sappiamo una cosa che le telefonate sono arrivate ma sappiamo anche che non possono essere partite dagli aerei in volo perché a 10.000 metri di quota e a 800 km di velocità credo ancora oggi ma sicuramente nel 2001 con un cellulare ti fa una banana ma non fai nient'altro perché non puoi fare niente oltre i 3.000 metri hanno fatto le prove nel 2001 con i migliori cellulari che c'erano perdi la connessione comunque e non solo c'è il problema dell'altezza ma c'è anche il problema della velocità perché i cellulari per poter comunicare continuano ad agganciarsi a una cellula dopo l'altra dopo l'altra dopo l'altra quando tu vai a 80 all'ora in macchina e sei col cellulare le due cellule la celle sulle due celle quella che ti sta abbandonando e quella nuova che ti riceve hanno il tempo di scambiarsi la telefonata e la tua linea non cade perché c'è il tempo che si chiama handshaking la cellula che ti sta perdendo diciamo dice quella nuova guarda che arriva sto numero prendilo la cellula lo prende c'è una zona in comune e tu non ti accorgi neanche che hai cambiato il ripetitore tu stai parlando al telefono puoi parare mezz'ora hai cambiato magari 4 ripetitori ma non te ne accorgi quando sei a 800 km all'ora la velocità con cui passi da un ripetitore all'altro è tale che l'hand shaking non fa in tempo neanche ad avvenire quindi se per caso riesci a beccare il numero da 10.000 metri per un secondo dopo 5-10 secondi ti casca la linea perché l'hand shaking con la torre successiva non fa in tempo ad avvenire perché è troppo veloce quindi anche se si possono stare tutte le telefonate dovrebbe durare al massimo 5-10 secondi invece hai delle telefonate che durano 10 minuti dai cellulari quindi noi sappiamo che sono impossibili dal cielo però sappiamo anche che sono state fatte le conclusioni tra le tue secondo me li hanno obbligati a farle di a tua moglie che leggi questo copione se proprio leggi questa roba di questo di quell'altro e dopo di che li hanno fatti fuori o li hanno fatti fuori lì o i passeggeri dei treeri sono stati tutti messi sul quarto che è arrivato dopo mezz'ora li hanno messi tutti e li hanno fatti esplodere in volo concorriandoli diciamo talmente piccoli da non li trovare più niente questa è una delle varie ipotesi su cui però non possiamo saperlo sappiamo che a casa non sono tornati e che dal cielo non hanno fatto le telefonate questo è certo io sono stato tre volte negli Stati Uniti Massimo due volte prima dell'11 settembre e mi ricordo in aereo ti danno dei questionari sulle motivazioni del viaggio l'ultima volta quindi la terza dopo era il 2015 se non sbaglio quello che ho visto quello che cadeva quando arrivi a New York all'aeroporto è che ha fatto il check out arrivi in questa zona dove ti identificano ovviamente le retine degli occhi e devi mettere i tuoi polpastrelli per essere schedato dei servizi americani il Patriot Act Massimo ne parliamo un attimo non so se il Patriot Act porta a questo perché quella roba lì l'ho dovuta fare anch'io prima dell'11 settembre la storia delle impronte digitali è una storia vecchia in America io ho preso la residenza nel 94 e mi sembra adesso non vado a memoria ma mi sembra di aver già dovuto dare le impronte digitali allora non credo che sia una questione del Patriot Act comunque sia a parte la cosa delle impronte il Patriot Act chiaramente è una delle tante cose che hanno fatto a seguito dell'11 settembre che ha restretto moltissimo le libertà personali come al solito ti dicono è un momento di emergenza mettiamo queste nuove regole e poi curiosamente passano 20 anni e si dimenticano di toglierle calcolo e con il Patriot Act la cosa più grave che è cambiata in America era questa che fino a prima del 2001 nessun poliziotto poteva entrarti in casa senza il diciamo il timbro del giudice il mandato avrai visto il mandato avrai visto 3000 film americani nel quale arrivano federali non potete entrare ho il mandato del giudice allora potete entrare se no non puoi entrare dopo ho detto che non c'era più il bisogno del mandato del giudice qualunque casa può essere perquisita basta che ci sia il sospetto che tu sei un terrorista quindi i sospetti dei poliziotti purtroppo non li possiamo controllare noi decide lui il poliziotto se sospettare di te e quindi praticamente hanno tolto quella protezione della libertà della propria casa che era famosa che rendeva famosa l'America proprio per questo fatto che dentro casa mia tu non entri a meno che il giudice ti autorizzi invece da quel giorno possono farlo vediamolo ad un piccolo spezzone del video che pubblicato oggi hanno dimostrato che i calcoli del NIST o erano sballati oppure erano basati su simulazioni a computer completamente inventate che fra l'altro nessuno ha mai potuto verificare inoltre inoltre architects and engineers ha dimostrato calcoli alla mano che la quasi caduta libera delle torri gemelle e la effettiva caduta libera dell'edificio 7 potevano essere venute solo con una demolizione controllata un corpo cioè la parte alta della torre in questo caso non può cadere in caduta libera se non c'è qualcosa sotto che rimuove prima la struttura portante il dibattito fra il NIST e architects and engineers è andato avanti per qualche anno e intorno al 2012 si è concluso con la totale sconfitta del NIST che ha dovuto addirittura correggere pubblicamente gli errori che aveva fatto nel rapporto iniziale e ha dovuto ammettere la caduta libera dell'edificio 7 nel rapporto finale e nel momento in cui ammetti la caduta libera di un grattacielo come abbiamo detto hai ammesso la demolizione controllata di lì non scappi fine del dibattito la versione ufficiale dei crolli delle torri gemelle fornita dal NIST non stava in piedi il loro rapporto era carta straccia e i debunker si defilavano silenziosamente dal dibattito perché non avevano più argomenti per controbattere questo è quello che è successo fino al 2012 poi io nel 2013 pubblicai il film 11 settembre la nuova per l'arbor nel quale riassumevo tutto il dibattito che c'era stato fino a quel giorno e ponevo per chi ancora volesse sostenere la versione ufficiale 50 precise domande alle quali nessuno fino ad oggi ha mai saputo dare delle valide risposte c'è neanche qualcuna di queste domande Massimo te ne dico una sola perché è quella più non sono domande in realtà sono domande retoriche nel senso che non c'è una risposta questo è il vero scopo di fare queste domande quando cade ci dicono che è caduto l'aereo a Shanksville il quarto aereo l'UA 93 il volo United 93 quello che sarebbe stato buttato giù dai passeggeri arrivano i soccorritori dopo 5 minuti i primi perché hanno visto la nuvola di fumo hanno visto il botto sono andati a vedere cosa era successo e hanno trovato questa buca fumante di 3 metri per 5 non di più con qualche pezzettino un pezzo di carburatore un pezzettino niente non c'era niente l'aereo non c'era l'aereo non c'era poi è arrivata l'FBI ha circondato tutto e nessuno ha potuto avvicinarsi più ma dal cielo gli elicotteri della TV hanno fatto le riprese e dalle riprese tu vedi questa specie di ma neanche buca un scavo fatto a forma si è mai fatto il vilcoyote quando fa il sbatte contro i grattacieli fatto a sagoma di aereo c'è proprio il codino scavato la coda scavata e la pancetta centrale ma l'aereo non c'è quando poi vai a vedere i documenti ufficiali dell'FBI l'FBI dice che l'aereo è tutto sepolto sotto addirittura ti dicono che la scatola nera una è stata trovata a mi sembra 5 metri di profondità e l'altra a 8 metri di profondità i motori le valigie i passeggeri i sedili la coda il timone di coda tutto ti dicono è sotto lì cioè siccome l'aereo non c'è tu gli dici dov'è e l'Aerreo ti dice lì sotto fatemelo vedere no nessuno ha mai potuto vedere i rottami perché chiedono questo è quello che è successo poi negli anni perché chiedono perché non vorremmo che il dolore per i parenti delle vittime fosse troppo quindi vorremmo risparmiargli questo inutile dolore questa che vi ho detto signori è la versione ufficiale dell'11 settembre per l'episodio di Shanksville l'aereo non c'è è tutto sotto il buco non te lo facciamo vedere e quando ti chiedo perché ovviamente mi rispondono no perché sennò magari i parenti rimangono male mentre gli impatti dei lettori gemelli ce l'hanno fatti vedere 287 mila volte al secondo quindi non è vero che fanno quel ragionamento allora la domanda per esempio è puoi spiegare come faccia un aereo di 100 tonnellate a picchiare per terra tutto intero perché dicono che è caduto tutto intero e a sparire una buca che si richiude su se stessa prima ancora che arrivino i soccorritori prova a rispondere è ovvio che non è una domanda nel senso che non c'è una risposta la risposta è che ti metti a ridere questo è un po' il meccanismo delle domande che faccio io nel film cioè spiegalo se sei capace se non sei capace vuol dire che quella storia lì è una bugia il pentagono Massimo è la zona più video sorvegliata del mondo e non c'è un filmato che rappresenti in maniera intera diciamo l'accaduto cos'è successo lì secondo te è stato un aereo un missile hanno fatto esplodere qualcosa la questione delle telecamere va detto un attimo perché è interessante poi ti dico secondo me cosa è successo e secondo altri perché ci sono diverse tesi la stessa FBI come dici tu il pentagono è una delle zone più osservate dalle videocamere al mondo che oggi non puoi andare a rubare una cicca al 7-11 che sta nell'angolo dell'ultima strada di Minneapolis figurati davanti al pentagono quante telecamere ci sono e infatti le FBI ha dovuto nel suo documento ufficiale ha scritto esistono 81 o 85 non mi ricordo più telecamere che inquadravano o la zona lontana di approccio o la zona vicina di approccio o la zona dell'impatto le mettono insieme tutte ma di tutte queste telecamere che noi abbiamo sequestrato e non vi facciamo vedere perché siamo da capo a questo giochino che non te le fanno vedere nessuna di queste mostrava l'aereo in transito le uniche telecamere che riprendono l'aereo ci dicono le FBI sono queste due inquadrature del parcheggio che sono quelle famose che tutti vediamo 3000 volte dove non si vede un cazzo che passa si vede una specie di fumino che passa e l'esplosione queste qui sono due telecamere in parallasse praticamente in asse che sono due colonnine di un parcheggio quindi è un'inquadratura sola vista due volte quella lì e basta le altre non è che ti dicono guarda vedi qui non si vede niente peccato no non te le fanno vedere quindi quanto bisogna essere idioti per credere che è vero che in quelle 81 inquadrature non si vede quello che è passato non ci vuole un genio per capire che lì dentro c'è qualcosa che non si vuole far vedere se no le mostrerebbero e direbbero guarda non si vede niente oppure ho passato una coda così ma non sapevo cos'era ma me le fai vedere invece anche quelle sparite per sempre esattamente come le regole del Patriot Act che le mettono e poi si dimenticano di togliere allora cosa può aver colpito il Pentagono è una questione che ha lacerato letteralmente il movimento per la verità sul 11 settembre al punto che io ritengo che sia stata fatta una infiltrazione cognitiva intenzionale proprio per spaccare il movimento su questo argomento ci sono due o tre tesi diverse la tesi ufficiale è che l'aereo non era diciamo nel movimento per la verità è la tesi ufficiale che quello era un 757 che è arrivato fra l'altro sentite che ridere questa versione ufficiale è fantastica perché questo povero pilota Hanni Anjur che non ha mai guidato questa è la versione ufficiale non ha mai guidato un gente nella sua vita Allah ha deciso che per lui al giorno fortunato lo ha portato dalla Virginia l'ha riportato indietro fino al pentagono lo porta in vista del pentagono cioè lui dall'alto da 8000 metri vede il pentagono a quel punto tu hai avuto il culo della tua vita non hai mai guidato un gente nella tua vita sei lì hai il pentagono là sotto cosa fai il rocchesso putti giù la cloche cerchi di prenderlo sui tetti no? per prenderlo in qualche modo se è quello il tuo bersaglio no? lui fa una manovra fa un giro di 5 miglia cioè 8 km discendente con un banking tra l'altro di 40 gradi che voglio vedere uno che non ha mai guidato un aereo a fare un banking del genere per fare il giro per ritrovare a naso istintivamente perché non ha più il pilota automatico l'ha staccato per fare la discesa quindi lui lui sa benissimo che quella curva lì ti riporterà esattamente in linea col pentagono che non lo vedi più cioè avevi il bersaglio sotto sotto mano l'hai perso di vista ma tu sei talmente fortunato quel giorno che sei esattamente in linea di nuovo col pentagono a quel punto cosa fai? non voli alto due trecento meno alla fine si abbassa a terra talmente vicino a terra da colpire da tagliare con le ali secondo la versione ufficiale cinque lampioni che c'erano lì sul quadrifoglio dell'autostrada lì davanti questa è la versione ufficiale ok? quindi già questa fa morire da ridere che cosa può essere invece nelle versioni alternative hai un aereo intanto anche questo andava a novecento all'ora cosa che è impossibile a livello di terra a livello di a livello del mare nessuno questo se lo ricorda mai nelle versioni alternative c'è o un aereo più piccolo anche lì pieno zeppo di esplosivi telecomandato che va a prendere esattamente quel punto del lato del pentagono preciso tra l'altro appunto nella famosa ragionamento del terrorista dall'alto il pentagono sono non so quanti ettari di terli di bersaglio se tu ti abbassi il muro di due piani o tre piani che sono diventa una strisolina invisibile che ti viene avanti cioè ci vuole una una bravura a beccarlo che appunto bisogna essere un super pilota militare professionista altro che uno che non è mai salito sugli aerei allora tornando a noi una versione che sia un aereo più piccolo pieno zeppo di esplosivi e telecomandato sappiamo che non è un 757 per il semplice fatto che non hanno trovato i motori non hanno trovato nessuna parte riconoscibile eccetto qualche frammentino di aereo così che ti fanno vedere con scritto tra l'altro curiosamente American Airlines c'è scritto proprio tutto il timbre cioè non hanno trovato niente ma il pezzo che trovano c'è proprio il timbre dell'American Airlines che dice vedi che era quello dell'American Airlines e che ha colpito il pentagono in diagonale entrando dal buco di entrata e c'è anche questo misterioso foro d'uscita tre anelli all'interno cioè il pentagono è fatto ad anelli non sono quattro anelli becchi l'anello esterno in diagonale circa 45 gradi ma c'è anche un foro d'uscita di tre metri più o meno che nessuno riesce a spiegare l'altra ipotesi è che secondo alcuni testimoni si chiama la rotta nord cioè invece che arrivare per così diciamo molti testimoni l'hanno visto arrivare per così c'è una stazione di servizio lì che fa da spartiaco tra chi dice che è arrivato di qua chi dice che è arrivato di là e che all'ultimo momento ha fatto un flyover cioè praticamente non è andato a colpire il pentagono ha fatto un flyover all'ultimo momento mentre hanno fatto esplodere una bomba che ha fatto il buco famoso che tutti credono che sia il buco creato dall'aereo questa è la teoria del flyover io preferisco non dirti quale teoria suggerisco perché faccio ancora parte del movimento per la verità mi sono sempre astenuto dal decidere quale io ho un'opinione precisa di quello che è successo ma preferisco tenerla per me però queste sono diciamo le tre teorie principali ovviamente nessuna di queste spiega il foro d'uscita a meno che una bomba in entrata sia stata fatta esplodere quasi in simultanea con una bomba più piccola in uscita e in qualche modo abbiano creato questa devastazione notare che proprio quel segmento del pentagono e soltanto quello era stato completamente rimodernato quindi era stato evacuato non c'erano gente negli uffici era stato completamente liberato e proprio in quel pezzo lì solamente avevano messo le finestre antiproiettile le rinforzi alle pareti eccetera eccetera cioè fai un passo indietro tu sei militare avete deciso che dobbiamo colpirci il pentagono e dici ok sì però calma ragazzi intanto non è che arriviamo dal cielo che non sappiamo che cazzo prendi e distruggi tutto facciamo che arriviamo dal lato dicono loro e secondo vediamo di uccidere il meno possibile dei nostri quindi andiamo a colpire proprio la zona che era disabitata praticamente e magari non usiamo neanche proprio l'aereo che metti che entra dentro e spacca tutto l'aereo fa il flyover e invece mettiamo una bombetta lì dove già sappiamo che non c'è nessuno e un'altra bombetta più piccola all'uscita così diamo il senso della traiettoria ripeto queste sono le variabili di fatto si può dimostrare con assoluta certezza che un 757 non abbia colpito il pentagono quindi anche lì la versione ufficiale può dimostrare che è falsa non puoi dire esattamente che cosa è successo invece ma almeno che la versione ufficiale è falsa non si può dimostrare è vero che tante persone che lavoravano all'interno del World Trade Center non si sono presentate al lavoro l'11 settembre è vero che c'è stata una grande speculazione finanziaria nei giorni precedenti l'attentato ed è vero che è stata rinnovata l'assicurazione del World Trade Center poco prima cinque giorno allora no sì e sì cioè cominciamo dalla fine come ho detto prima il World Trade Center era da 20 anni o da 30 anni da quando è stato costruito proprietà della Port Authority che è un ente pubblico si chiama fra l'altro Port Authority of New York che New Jersey quindi è diciamo è un ente comune fra Manhattan e la costa del New Jersey curiosamente sei settimane prima degli attentati in agosto la Port Authority decide di vendere l'11 il World Trade Center cioè tutto il complesso sono sette grazie a cieli oh l'hanno avuto per 30 anni si vede che non gli interessa più e se ne liberano lo compra un privato che si chiama Larry Silverstein che non lo compra in realtà ma lo prende in affitto per 99 anni non so perché lì c'è una questione legale perché non poteva comprarlo fisicamente tra l'altro Larry Silverstein era già il proprietario del Building 7 quello che cade per ultimo quello era già suo cosa fa Larry Silverstein lo compra in agosto per prima cosa dà subito inizio a un lavoro di rimodernamento di tutte le trombe degli ascensori che come noto avevano un bisogno immediato di essere tutte rimodernate quindi nelle settimane aprile o 12 settembre tutte le trombe degli ascensori vengono bloccate e dall'interno gli operai lavorano per rimodernare le trombe degli ascensori ok contemporaneamente Silverstein che si sente evidentemente un po' insicuro decide di fare un'assicurazione per ogni edificio contro un eventuale attentato terroristico perché non mi ricordo più 7 miliardi di dollari ciascuno una roba del genere non solo già questo ti dice molto ma Larry Silverstein aveva talmente fretta di firmare il contratto per il World Trade Center a fine agosto chissà cosa aveva di così urgente mica te le portano via le torri gemelle non è che te le frega un altro che passa di lì no te le danno stai tranquillo talmente fretta che lui ha avuto un incidente d'auto è stato travolto da un'auto ha avuto un incidente finito in ospedale ed era praticamente sotto morfina ed era messo veramente male con un filino di voce ha detto toglietemi la morfina ha voluto che venissero tutti i suoi collaboratori ha sofferto il dolore che doveva soffrire ma ha voluto firmare immediatamente il contratto di cessione delle torri gemelle perché aveva una fretta urgente di prendere il controllo delle torri gemelle lo stesso Larry Silverstein così concludiamo il personaggio in bellezza che racconta perché lui non è morto nelle torri gemelle che ci racconta che la mattina dell'11 settembre lui aveva un appuntamento di lavoro all'ultimo piano della torre nord a un ristorante che si chiamava Windows of the World e racconta lui Candido Candido dice stavo per uscire per andare al mio appuntamento quando mia moglie mi ferma sull'ascensore e mi dice dove vai caro e lui dice racconta lui io vado a lavorare ho un appuntamento alle torri gemelle e no non puoi andare tu hai appuntamento dal dermatologo assolutamente non puoi e quindi lui dice allora sai mia moglie mi ha detto di andare al dermatologo allora io sono andato alla mia moglie guarda lì che fortuna proprio mentre ero dal dermatologo è successo abbiamo avuto la notizia che era anche rollata le torri gemelle cioè capisci ci pigliano anche per il culo è una roba veramente basterebbero quattro di queste cose in un mondo normale con dei giornalisti che ragionano normalmente invece c'hanno tutti il tergicristallo anche le fette di salami c'hanno il tergicristallo sugli occhi man mano che tu gli dai le cose questi li spazzano via non le vogliono vedere bastano quattro cose così messe in fila per capire cosa è successo la speculazione finanziaria invece per quanto riguarda il prodotto la speculazione finanziaria c'è stata c'è stata e nessuno aveva voluto approfondire curiosamente la commissione 11 settembre virgolette non ha ritenuto importante approfondire chi e perché l'avesse fatta pensa che bello sono andati a cercare fino alle mutande sporche dell'ultimo dei terroristi in Arabia Saudita per vedere se lui c'era però chi ha fatto la speculazione finanziaria sulle aeroline nessuno ha voluto andare a vedere chi c'era sotto la terza domanda interessante che è quella è vero che molti non sono andati a lavorare molti ebrei perché la voce che si è sparsa subito è che ah strano molti ebrei non sono andati a lavorare alle torri gemelle ah quindi allora sono stati loro allora questa voce è girata subito come c'era già la rete funzionava non c'erano ancora i social ma diciamo ha fatto il giro della rete e naturalmente è stata subito smentita con sdegno da Israele come osate dire queste stupidaggi non è vero guardate la lista delle vittime e in effetti se tu guardi la lista delle vittime ci sono un sacco di Rosenstein di Bergerstein di tutti i cognomi Shlomo tal di qui Shlomo di là tutti i nomi ebrei chiaramente ce ne sono tantissimi quindi la risposta è doppia non è vero che molti ebrei non sono andati li hanno lasciati tranquillamente andare a lavorare ma è vero e questa è la piccola nocciola di verità che di solito sta dentro la bugia ma è vero che due impiegati di una società che si chiama Odigo hanno raccontato il 16 settembre al giornale Haaretz israeliano di Tel Aviv che loro hanno ricevuto una telefonata per non andare a lavorare quel giorno quindi non è vero che un sacco di ebrei non sono andati sono andati li hanno fatti morire e non glielo poteva fregar di meno ma almeno due di loro hanno ricevuto una telefonata di questa società di telecomunicazioni calcola che dire telecomunicazioni quando parli di Israele sai bene di cosa stiamo parlando non sono certi i telefonini che uno mette in tasca questa società che si chiama Odigo se cercate ancora oggi c'è in rete ogni tanto vado a vedere se c'è ancora 16 settembre 2001 Haaretz il giornale con l'H davanti doppia A mettete 16 settembre 2001 Haaretz Odigo Odigo Twin Towers Ottori Gemelle vengono bene fuori l'intervista di questi due che dicono non sappiamo chi ci hanno detto di non andare a lavorare quel giorno quindi qualcuno lo sapeva in anticipo sicuramente non era un arabo perché non si sarebbe preoccupato di chiamare due ebrei per non andare a dirgli di lavorare chi fosse nessuno l'ha mai voluto approfondire ma questo è un fatto che sta ancora lì da verificare oggi George Bush Junior secondo te Massimo era corrente di quello che stava accadendo? Non solo non era corrente troppo stupido per metterlo a corrente di queste cose sei matto che poi gli scappa qualcosa ma addirittura lo hanno mandato via apposta Dick Cheney che era il vero presidente è sempre stato il vero presidente fin dall'inizio ha mandato Bush in Florida la sera prima la sera del 10 proprio per toglierselo di mezzo mentre curiosamente Bush padre Bush 41 quello che è morto qualche anno fa ha passato ha passato la notte del 10 alla casa bianca pur sapendo che il figlio non c'era perché il figlio era in Florida lui dice Bush padre che fa parte della vecchia struttura è stato capo della CIA prima Bush padre non è che è uno più avuto che uno si giocò la piene era stato capo della CIA prima di diventare presidente Bush padre dice che io ero a un evento di beneficenza a Washington e così ho avuto voglia di tornare a vedere la casa bianca mi ha accolto Dick Cheney il vice presidente perché mio figlio non c'era abbiamo chiacchierato un po' ho passato la notte lì e poi il mattino molto presto sono partito ma sono rimasto anch'io bloccato quando ho bloccato tutti i voli aerei io non so quante ore ha perso anche lui insieme a tutti gli altri non ho potuto tornare a casa quindi questa è una parentesi dentro una parentesi comunque il Bush figlio Bush presidente sicuramente non era al corrente anzi lo hanno mandato via anzi addirittura quando alle 10 del mattino alle 9 scusa 0-3 del mattino qualcuno si china Bush è nella scuola che sta parlando con gli studenti con gli alunni qualcuno si china e sappiamo dopo che gli ha detto Mr President America is under attack cioè signor Presidente l'America è sotto attacco lui fa quella faccia lì da dire scusate sembra sembra verdone così ecco fa quella faccia lì poi si alza poi dopo pare non pare hanno raccontato che lui volesse tornare subito a Washington è stato Dick Ceni che non ha voluto farlo tornare è stato Dick Ceni a fargli mandare all'Air Force One l'aereo che stava per decollare l'ha già decollato dalla Florida per tornare a Washington Dick Ceni gli ha fatto arrivare un falso messaggio di allarme al capitano di Air Force One dicendo attenzione perché siete un target anche voi dirottate andate in Ebraska li ha mandati in Ebraska nella base di Omaha credo e l'ha lasciato là a quattro ore e poi quando è ripartito dall'ala l'ha mandato in un'altra base di sicurezza e ha fatto in modo che Bush arrivasse a Washington solo alle sei di sera quando ormai tutto era sotto controllo Ceni aveva preso il controllo dalla stanza del sotterraneo della Casa Bianca diciamo dal bunker sotterraneo della Casa Bianca dal primo momento e non ha mai avuto non ha mai voluto Bush fra le balle perché Bush non sapendo niente avrebbe magari dato degli ordini che non andavano dati invece quando era ritornato Bush ormai era tutto fatto la versione ufficiale era già su tutti i giornali già tutto il mondo sapeva che erano stati gli arabi perché grazie alle telefonate con i cellulari ovviamente abbiamo scoperto che erano degli arabi cattivi col bandana rosso fra l'altro si sono sbagliati i passaporti quelli li hanno trovati dopo dopo due tre giorni ma alla sera stessa la prima notizia perché cosa succede che ovviamente come facciamo mettiti nella testa di chi ha organizzato sta roba abbiamo degli aerei che dobbiamo far finta che sono dirottati li sbattiamo a sbattere con tutti i gemelli poi la gente chiederà chi c'era chi c'era a bordo no? come facciamo che sulla lista passeggeri non c'è neanche un nome arabo perché le liste passeggeri che la CNN e la Associated Press hanno mostrato al mondo la sera stessa al mattino dopo credo non hanno un solo nome arabo quindi come facciamo visto che noi sappiamo benissimo che non ci sono i nostri dirottatori allora nasce questa invenzione delle telefonate con i cellulari che vanno immediatamente nei telegiornali perché la signora vedova di quello che è morto sull'aereo che vede il marito che si schianta crede lei contro le torri gemelle dice oh mio dio aveva ragione mi ha appena chiamato mio marito dicendomi ci hanno dirottato ci stanno sbattendo da qualche parte quindi cosa fa chiama i telegiornali i giornalisti e dà la notizia quindi la notizia delle telefonate con i cellulari e quindi la notizia che erano stati degli dirottatori arabi si diffuse immediatamente perché nessuno l'ha mai contestata grazie all'idea dei cellulari capisci che è la genialità di questa operazione la difesa aerea americana e l'N6A dov'erano quel giorno Massimo? la difesa aerea americana intesa come sistema radar non esiste è una cosa che i debunker ci giocano molto a confonderti le idee ti dicono sempre sai i radar difesa è puntata verso l'esterno i radar sono puntati all'esterno quindi questi qui hanno scavalcato perché sono partiti dall'interno quindi i militari non potevano fare niente questa è la barzelletta che Attivissimo racconta da vent'anni o che ha finito per fortuna di raccontare che ha raccontato per almeno dieci anni quello che non vi dice Attivissimo è che è vero che i radar militari sono puntati all'esterno perché sono ovviamente in attesa di un attacco da parte di un nemico ma hanno anche degli accordi per cui tutto quello che succede all'interno degli Stati Uniti compresi i dirottamenti viene gestito direttamente dalla Federal Aviation del Ministero FAA si chiama la quale comunica con i militari non è che siccome io ho dirotto un aereo e i radar sono puntati fuori allora io vado in giro a fare il cretino per tutta l'America quattro giorni e nessuno mi becca perché loro hanno i radar puntati fuori i civili vedono il dirottamento e immediatamente alzano il telefono e avvisano i militari i quali militari fanno partire secondo la procedura dei caccia dalla base più vicina che va ad affiancare l'aereo dirottato teoricamente per avere comunicazione visiva per vedere se con il movimento delle ali che è un linguaggio che hanno loro riescono a obbligarlo ad atterrare o comunque a dare informazioni dal vivo magari il pilota è svenuto è morto capisci quindi i piloti vanno proprio i piloti di caccia quando c'è un aereo che va fuori rotta la prima cosa che fanno lo accostano e si avvicinano per cercare di guardare se c'è qualcuno dentro se li saluta se gli fa così col dito o se magari è morto ok peccato che quando i controllori civili chiamano i militari e i militari alzano subito il telefono per dire mandate due caccia qui mandate due caccia di là i caccia non c'erano non ce n'era nessuno pronto proprio quella mattina erano stati mandati tutti a fare esercitazioni in alaska in canada e fuori sull'atlantico a 3-400 miglia di distanza quando uno dice la sfiga è veramente pazzesco c'erano solo 4 su 300 caccia disponibili nel settore nord-est c'erano soltanto 4 caccia pronti a decollare quel mattino quindi 4 aereo dirottati 4 caccia che ovviamente partono sempre in ritardo e cercano di seguire ma non è mai uno in più da alzare in aria prima quello non ce l'avevano ok quindi la difesa c'era non c'erano i caccia allora uno dice va bene siete stati così stupidini che avete mandato tutti i caccia a fare le esercitazioni nel momento in cui vi accorgete cioè alle 9.03 quando la seconda torre viene colpita nel momento in cui tutto il mondo ha capito non solo voi militari tutto il mondo ha capito che l'America è sotto attacco con aerei dirottati perché il primo poteva anche essere un incidente quello che ha preso la prima torre quando dopo un quarto d'ora arriva anche il secondo anche un paracarro capisce che quello è un attacco coordinato siamo alle 9.03 i generali al comando della difesa aerea Eberhardt e Myers raccontano di aver visto addirittura in diretta il secondo impatto quindi al 9.03 quindi alle 9.03 e un secondo i generali sapevano che l'America era sotto attacco cosa fai come prima cosa richiami tutti i caccia che sono fuori per le esercitazioni giusto sbagliato i caccia vengono richiamati solo alle 10.10 cioè un'ora e 8 e 7 minuti dopo l'attacco alla seconda torre alle 10.10 già il quarto era già caduto a quel punto arrivano 300 caccia da ogni parte e cominciano a volare per i cieli cioè fanno tutta la sceneggiata che fanno loro dopo ma alle 9.03 nessuno dei due generali ha pensato di richiamare i caccia il volo che magari gli potevano servire e la commissione 11 settembre si è curiosamente dimenticata di chiedere a questi generali come mai non avete pensato a richiamare i caccia questo è signori quello che è successo l'11 settembre ci hanno preso per il culo in modo violento e secondo me anche ci godono anche un po' raccontarci tutte queste fregnacce perché sanno benissimo che tanto non possiamo fare niente la coincidenza delle esercitazioni non solo quelle della difesa aerea quindi Alaska però anche a New York se non sbaglio c'era era prevista un'esercitazione dei pompieri mi sembra vicino al World Trade Center sta di fatto che insomma erano lì per fare un lavoro dell'esercitazione e sono ritrovati a doverlo attuare realmente è vera o falsa questa affermazione è vera è vera ed è un trucco che usano sempre quelli che organizzano gli attentati cioè organizzi un'esercitazione o il giorno prima o un'ora prima in questo caso la sera prima la FIMA cioè l'ente della protezione civile americana aveva organizzato un'esercitazione di pronto soccorso proprio alle torri a Ground Zero quindi cosa succede che quando succede poi il fatto tu sei prontissimo a intervenire perché hai già tutti lì sul posto ambulanze pompieri quindi fai una bellissima figura dici alle 8.46 è stata colpita la prima torre alle 8.48 c'era già il primo camion dei pompieri pronto lì che annaffiava visto come si sono stati bravi grazie te li sei messi tutti lì la sera prima pronti a intervenire lo stesso giochino lo hanno utilizzato con gli attentati di Londra del 2005 pochi se lo ricordano tre attentati in tre fermate diverse della metropolitana in tutte e tre non una che sarebbe già una roba da dire ma vai a quel paese in tutte e tre erano in corso erano appena finite delle esercitazioni antiterroristiche per cui nel momento in cui i cattivi terroristi che hanno scelto proprio quelle tre stazioni dove già c'era l'esercitazione per mettere le bombe nel momento in cui i cattivi terroristi fanno scoppiare le bombe loro sono già pronti con l'ambulanza gli elicotteri non ne hanno beccato uno di loro perché poi c'è storia del passaporto si va a divagare di nuovo ma la tecnica è sempre quella cioè ti prepari e copri soprattutto la installazione stessa delle bombe perché se io vado a fare un'esercitazione antiterroristica alla fermata di Loreto del metro di Loreto a Milano e ho lì tutti che si esercitano nessuno viene a controllare che cosa sta facendo veramente quello lì vestito da poliziotto sulle rotaie perché io so che c'è in corso un'esercitazione probabilmente mi hanno messo il cordone mi hanno tagliato fuori quindi io lascio che lavorino e chi lo dice a me anche quello lì non stia proprio mettendo lui le bombe prima di poi ritirarsi indietro un po' lasciarla scoppiare poi fare anche una bella figura che arriva subito cioè l'esercitazione serve a due cose uno a fare la bella figura dopo ma anche in certi casi a coprire il fatto stesso che tu stai mettendo le bombe perché non è facile magari andare a mettere delle bombe in una stazione del metro senza essere visti perché le telecamere ti inquadrano e infatti curiosamente tornando alle Torri Gemelle due giorni prima del crollo degli attentati del 11 settembre tutte le telecamere di una delle due torri non mi ricordo quale sono tutte saltate sono tutte spente tutti i sistemi di allarme non funzionavano più ci sono i guardiani delle Torri Gemelle che dicono due giorni prima c'erano i turisti che venivano a visitare che entravano tranquillamente in tutte le zone protette perché tutti i sistemi di allarme non funzionavano più e le telecamere non funzionavano più quindi non sappiamo chi si sia aggirato oltre ad aver lavorato all'interno delle trombe dell'ascensore lì stai al sicuro perché nessuno ti vede ma se hai bisogno di mettere anche delle bombe per esempio nei piloni normali delle torri quelli a vista se hai bisogno di lavorare lì come fai con tutte le telecamere in funzione che ti vedono in quel caso sfiga vuole che tutti i sistemi per la prima volta in 30 anni l'unica e prima unica volta in 30 anni tutti i sistemi di sicurezza sono saltati tutti le telecamere hanno smesso di registrare proprio un giorno prima che venisse il giudatore Gemelle guarda se tu facessi la lista delle strane coincidenze dei attori gemelle degli attentati dell'unica sistema viene a fare un libro alto così solo dalle coincidenze che sono successe a parte tutto il resto debunker di allora Paolo Attivissimo che hai nominato ho avuto anche io uno scambio di mail con lui in quegli anni è debunker di oggi e metto l'ultimo pezzo del tuo video adesso a 10 anni di distanza succede una cosa veramente curiosa sta venendo fuori tutta una nuova generazione di debunker io li chiamo i debunker della domenica i quali fingono che il debattito degli anni scorsi non sia mai avvenuto e ricominciano da capo a riproporre le stesse argomentazioni a favore della versione ufficiale che proponeva il NIST 15 anni fa cioè cosa fanno questi fresconi si approfittano del fatto che con il passare del tempo molta gente o non si ricorda più o proprio non conosce la storia del dibattito che c'è stato e gli ripropongono le stesse identiche spiegazioni che sono già state smontate e fatti a pezzi negli anni passati approfittano dalla vostra ignoranza uno di questi gruppi di nuovi debunkers si chiama Geopop il loro direttore editoriale si chiama Andrea Moccia notiamo che lui si propone come divulgatore scientifico in realtà Moccia è un semplice geologo ma divulgatore scientifico fa più figo perché ti fa sembrare dalla parte della scienza no? un divulgatore scientifico non può mentire per definizione giusto? e infatti sentite Moccia come presenta l'attività di Geopop se vi va di supportare la divulgazione scientifica fatta con rigore e serietà iscrivetevi al canale Geopop e allora vediamola da vicino questa analisi scientifica fatta con rigore e serietà come ci presenta il nostro Moccia la spiegazione per i clodi delle torri gemelle ma proprio con le simulazioni farlocche del NIST ovviamente sentite secondo le simulazioni del NIST che è il National Institute of Standards and Technology a innescare il crollo sarebbe stato proprio l'indebolimento dell'acciaio non la fusione l'indebolimento dell'acciaio in alcune zone specifiche sui piani dell'impatto lì dove gli incendi avrebbero portato le temperature fino a picchi di 800-1000 gradi ecco ora guardate le parti colorate di questa immagine che è relativa ad una delle simulazioni prodotte dal NIST dà una stima delle temperature che c'erano lì le zone arancioni rosse rappresentano temperature tra i 900 e i 1000 gradi penso che li stiano fischiando le orecchie oggi al caro Moccia Massimo e non solo le orecchie credo neanche più di tanto perché se ne fottono sta gente qui c'è talmente in mala fede che non gliela può fregare di meno c'è 50.000 visualizzazioni arriveranno a 100.000 tra due giorni 120.000 se tutto va bene sai che gliene frega loro c'hanno 2 milioni di iscritti se sono veri se sono veri per cui continueranno a raccontare le loro palle tranquillamente subiranno questo piccolo danno dell'1-2% del loro pubblico ma il resto continueranno a raccontare le bugie io non lo faccio certo per andare contro di loro non me ne può fregare di meno di questa gente li trovo talmente dei pezzenti morali che proprio non val neanche la pena di considerarli dal punto di vista umano lo faccio perché mi auguro che fra le mille persone o le 50.000 o le 80.000 o le 100.000 che vedranno il mio video almeno uno si sveglia e dica oh cazzo questi mi hanno preso in giro per tre anni mi cancello dal loro sito dal loro canale e vada via se solamente qualcuno si risveglia e io riesco a fargli vedere come è stato preso in giro per me lo scopo è già raggiunto consigliamo caldamente invece i tuoi documentari massimo che si trovano sul sito luogo comune mostriamo la pagina su un banner in home page su ladder dove sono tutti i tuoi film sia su dvd che chiavetta usb massimo dovrebbe essere la bibbia di ogni complottista come la vedo io cosa che è stata ci sono vari argomenti interessanti ci sono tre sul 11 settembre c'è quello sulla storia della marijuana le cure proibite del cancro nella chiavetta ci sono anche quello del covid e quello dell'ucraina quindi insomma è un se uno ha un minimo di mente aperta c'è sicuramente un bel po' di materiale interessante da vedere massimo grazie mille per la tua disponibilità per le informazioni che ci ha dato auguro a tutti una buona serata e ci vediamo domani mattina alle 8 per la rassegna stampa e chiudiamo con top gun ciao 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 massimo grazie a tutti grazie a tutti a tutti a tutti a tutti